Cioè quando ho iniziato a studiare la banca dati, voi vi ricordate magari i primi tre che avete studiato, i primi cinque, poi vi ricordate gli ultimi, non vi ricordate quello in mezzo e vi dite, perché lo so che ve lo dite, cazzo mi ricordo quello che ho studiato stamattina e non mi ricordo quello che ho fatto cinque ore fa. Il motivo è proprio questo. Eccoci ragazzi. Benvenuti, benvenuti, sfortunatamente. Ancora, Loredana, non va più via, sei affezionata alla sedia. Cioè è come i nostri politici italiani, mi dissocio da questo che ha pensato Loredana, perché io sono la voce, ma è il pensiero di Loredana, che sia chiaro. Ma secondo voi, onestamente, ci sei così soprattutto all'inizio, è possibile che io pensi una roba del genere? Non lo so, comunque è stato di fatto che sei incolata con la sedia e così ferma da tre giorni. Non mangio, non va in bagno. Non bevo quel poco d'acqua che mi è rimasto qui e basta. Oggi parliamo di? Di come ricordare fino al giorno del concorso la banca dati. Qualcuno la chiama memorizzazione a lungo termine, qualcuno la chiama tecnica dei ripassi o richiami programmati. Questo è l'argomento del giorno. Esatto. Allora, su questo, prima di iniziare, ovviamente, ragazzi, mettete like, commentate, cliccate sotto, seguitici, eccetera, eccetera. Condividete. Insomma, già sapete un po' come era andato. Allora, prima di darvi la parola, faccio una piccola premessa. Vai. Ormai in giro sono tutti un po' esperti in metodo di studio, ti spiegano come ripassare, eccetera, eccetera. Noi qua, oggi, Marco e Loredana ci spiegheranno un qualcosa di scientifico, ok? Quindi non è una cosa che, come senti in giro, si ripassa sette giorni a ventuno, perché ventuno vittoria a Grande Baldoria. Che bello. Eh, sì, perché ventun giorni, ventun vittoria a Grande Baldoria. Ecco perché sono andate al 21, capito? Come il Black Jack. No, non c'entra niente. Poi c'è proprio una roba scientifica, c'è un qualcosa di scientifico, ok? Che poi c'è anche i sette giorni e potenzialmente il 21 e il 30, va bene, ma non banalizziamo questo concetto, perché sennò poi magari c'è qualcuno che si trova male, perché scientificamente non è corretto, e quindi poi succede un casino. Quindi, adesso do la parola a voi e spiegateci cos'è la tecnica dei ripassi programmatici. Tra l'altro questa cosa noi la insegniamo ai nostri corsi. Esatto, che poi, apri a chiudere una parentesi, è un po' come il luogo comune che le abitudini si creano in ventun giorni. Esatto, ventuno vittoria a Grande Baldoria. Sì, ma spoiler, questa in realtà è una bugia, perché le abitudini di solito si crea in 60-90 giorni, soltanto che un medico di qualche secolo fa aveva teorizzato il fatto che, che parlava praticamente, aveva a che fare sempre con mutilati di guerra, che ventun giorni era più o meno, erano media, il periodo che serviva alla persona, insomma al soldato, al militare, per rendersi conto che effettivamente aveva perso un arto. E quindi, cioè, poi lui aveva fatto anche delle scritture sul cervello, eccetera, e, come al solito, gli ignoranti, permettetemi, hanno messo insieme tutto, hanno detto, ah, quindi in ventun giorni si crea in una bidunia. Se l'ha detto lui, e quindi... Però era una... Cioè, se lo dice lui, te l'ha anche senza un braccio, voglio dire, ne saprà di più. E questo è il pensiero che sono qua. Esatto, la metafora torna sempre. Infatti io voglio agganciarmi per fare una premessa, perché si va un po' contro a quello che è il sistema, ma un po' con cui tutti hanno studiato fino adesso. È sempre la metafora di camminare con una gamba sola. E uno va avanti, magari con delle convinzioni, con delle credenze proprio sul metodo dello studio e sulla sua situazione, quindi le sue abitudini nello studio che hanno creato poi il suo metodo di studio attuale. Perché a scuola cosa ti insegna la maestra quando vai a scuola? Almeno cosa mi è stato insegnato a me dalla mia maestra in prima elementare? Leggi, sottolinea, evidenzia, riscrivi e ripeti. Questo è il metodo che probabilmente anche qualcuno di voi ancora utilizzerà, ecco. E invece non è proprio così. Esatto. E a proposito di ripetizione anche qui, perché poi secondo me tra le traduzioni, perché molti libri vengono, molti concetti vengono dall'America, e molte persone che magari non sono del campo, e comunque quindi, insomma, abusano della professione altrui, diciamo così, in senso proprio povero del termine, non in senso legale, diciamo che poi vengono, insomma, si creano questi pastrocchi. Nel caso specifico, in realtà, moltissimi testi proprio dell'apprendimento, tantissime fonti scientifiche parlano della ripetizione. Anche un, insomma, un detto latino è Repetita Juvent, ok? Ma che cosa significa? Significa ripetere ad alta voce? No. Significa che per solidificare un ricordo, in questo caso, bisogna fare delle ripetizioni, dei ripassi, che adesso appunto spieghiamo. Sì, ma poi anche, tante volte, anche il metodo, cioè nel senso, i famosi metodisti, cioè se io voglio acquisire un'abitudine, torniamo un po' sempre a concentrare l'abitudine, e un'abitudine vincente, ripetendo quel metodo, quindi, ripetendo la sveglia sempre alle, come dicono i grandi guru, alle 5 e mezza del mattino, allenandosi alle 6, facendo colazione alle 7, tutti i giorni, doccia fredda, una cazzata, ragazzi, cioè diciamo, comunque, entriamo in questo merito, capite che quello porta ad avere dei risultati alla lunga, vincenti, può essere, non lo so, io non mi alzo alle 5 e mezza del mattino, però c'è chi si alza e dice che... Io non alle 5 e mezza, quasi. Esatto. Quindi questo è senso. Per il primo divino, perché lo dico nel guru. Quindi abbiamo già smantellato la prima credenza. Punto numero uno. Falso mito. Esatto, il primo falso mito, quindi ripetere sì in modo programmato. Aggiungo un altro pezzo prima di entrare nel tecnico di ripassi programmati. Come funziona la nostra memoria? La nostra memoria trattiene in modo naturale alcune informazioni, molto più rispetto ad altre, e questo è normale. Pensate, magari ci sono delle cose, dei vostri interessi, delle vostre passioni, che ricordate in modo naturale e semplicissimo. Leggete una volta e, bom, ve le ricordate. E magari la domanda della banca dati, o la lezione di storia, o qualsiasi cosa che vi viene chiesta a scuola o al concorso, prima di ricordarla dovete sbatterci la testa migliaia di volte. Il motivo è molto semplice, che appunto la nostra memoria innanzitutto funziona per immagini, sensazioni, quindi diciamo che viene simulata dai nostri sensi. Punto numero uno. Punto numero due. Ci sono tantissimi studi che dimostrano che è molto più facile memorizzare quattro categorie di cose. La prima sono quelle appunto rigate i sensi. La seconda, tutto quello che è unico, quindi che rimane impresso perché magari è extraordinario, i primi elementi e gli ultimi elementi. Motivo per cui, pensateci, se leggete un elenco di numeri, anche la lista della spesa, magari vi ricordate la prima voce, la seconda e poi l'ultima. Tutto quello che c'è in mezzo è un bordello. Anche quando fanno i, magari, i cicli di studio, cioè quando iniziate a studiare la banca dati, voi vi ricordate magari i primi tre che avete studiato, i primi cinque, poi vi ricordate gli ultimi, non vi ricordate quello in mezzo e vi dite, perché lo so che ve lo dite, cazzo mi ricordo quello che ho studiato stamattina e non mi ricordo quello che ho fatto cinque ore fa. Il motivo è proprio questo. Quindi non è perché sei stupido o stupida, non è perché non sei capace, perché non sei portato per lo studio. Il motivo è molto semplice, perché non stai utilizzando uno strumento. Magari non sai proprio utilizzare la tua memoria in modo consapevole, perché appunto tutti ci ricordiamo delle cose. Quindi sono sicura, anche tu che stai ascoltando, c'è una delle cose che ti ricordi in modo automatico senza doverle ripetere. Ora, adesso diciamo che quelli appunto sono di solito gli interessi personali o qualcosa che ti ha colpito, come ho detto prima. Come fare a rendere non più automatico, o meglio sia automatico, ma a proprio scegliere di ricordarti un'informazione, quindi come la banca dati, con appunto i ripassi programmati. Non so se vuoi aggiungere qualcosa. Sì, assolutamente. Infatti stavo aspettando che finissi questa lezione. Esatto, molto tecnica per trasformarlo un po' più nel pratico e nel concreto, perché spesso qualcuno legge direttamente un'informazione e pensa che semplicemente leggendo un'informazione, leggendo una pagina del libro, quello sia studiare e memorizzare. Quello non è memorizzare, quello è leggere una pagina del libro. Dovrebbe essere anzi una fase abbreviata, infatti ci sono anche delle tecniche di lettura veloce. Però questo non è ovviamente il momento in cui possiamo parlare di ciò e quindi ci tengo a dire, proprio nel concreto, che è proprio l'approccio che deve essere diverso. Cioè deve essere proprio il metodo di studio a essere cambiato. E poi, dopo aver cambiato il processo iniziale, quindi sul metodo di studio e quindi andare a memorizzare l'informazione, apprenderla e essere consapevoli proprio dell'informazione, elaborarla, ecco, non mi veniva il termine. Poi, dopo, ci agganciamo ai ripassi programmati. Adesso puoi andare avanti con questa parte un po' più pratica, perché in tutti questi tecnicismi magari da casa non avevano a pieno compreso il senso di questa parte, ecco. Fai benissimo, ora guarda, facciamo così, ti aggiungo un'altra cosa tecnica e poi ti vuoi fare la pratica. Bravissima. Esatto, così spieghiamo anche scientificamente, perché secondo me un'altra cosa importante da far capire è che noi facciamo veramente questo mestiere da... Io personalmente, come dicevo in un'altra puntata, io ho fatto i primi corsi nel 2014, quindi so dieci anni che leggo queste robe, cioè, quindi diciamo che all'interno del nostro staff ci sono persone che davvero sono competenti, che fanno pubblicazioni scientifiche sull'apprendimento e fanno ricerche che tutti i giorni si mettono proprio sul campo con i ragazzi che ci hanno risultati concreti. E questo secondo me fa la differenza. E quindi io ci tengo sempre a spiegarvi anche, diciamo, la natura scientifica della cosa. E tutto questo, quindi i ripassi programmati, non li abbiamo inventati io, Marco, Leonardo. Ah no? No, né chi decanta queste cose, ma in realtà derivano da uno studio che si chiama, o meglio il titoletto di questo studio, è la curva dell'oblio di Ebbinghaus, che pensate che era uno psicologo tedesco dell'Ottocento, quindi non è una cosa recente, almeno a 150 anni questa cosa. Ma lui è ancora vivo? No, è morto nel 1913, una roba del genere. La sua memoria è ancora lì. Però la curva dell'oblio... La sua memoria ancora esiste. A me mette un po' ansia, perché la curva dell'oblio. Quindi che cos'è questa curva? Fondamentalmente lui ha studiato che il nostro cervello, una volta che apprende qualcosa, dopo 20 minuti che è entrato in contatto, diciamo, con queste informazioni, quindi l'ha letta, l'ha ascoltata, già perde il 40% delle informazioni. Quindi ne trattiene il 60% e ne lascia andare il 40%. Dopo un giorno lascia andare, a meno che non si utilizzano le tecniche di cui tra poco parleremo, il 70%. Quindi se nell'altro test stai dicendo ok, io ho studiato una domanda nella banca dati, ma poi il giorno dopo non me la ricordo più, perché probabilmente rientrano in quel 70% delle informazioni che il tuo cervello ha liberato. Quindi potenzialmente facciamo due conti matematici. Vai. Perché sai che sono quelli dei conti matematici. Assolutamente. Quindi significa che se io voglio memorizzare... 100 domande al giorno. Sì, però, sono pensata questa cosa. 100 domande al giorno e considerando che dopo un giorno ne perde il 70%, io ne devo studiare 700. Sì, per memorizzarne 100. Però hai detto 60-40, giusto? Ho detto, esatto. 60 ne perdi... No, scusa, 60 le trattieni, quindi ne perdi 40 dopo... 40%. Quindi praticamente è come se... No, dopo un giorno però ne perdi 70. Il 70%, quindi in realtà se ne studio oggi 700... Domani ne hai 100. Ne hai 100. No, ne hai 210, perché il 70% di 700 è 490. Ok, quindi siamo a... Vedi? Quindi se per farne 210 in un giorno ne devi studiare 700. Oppure... Quindi fare 350 per il giorno dopo ricordartene 100. 420 circa. Questa è sempre colpa di Loredana che non si è spiegata bene quindi ci sono andate in confusione. No, si chiama saper fare le percentuali e i calcoli a mente. Quindi tecnicamente voi per ricordarvi almeno 100 quiz ovviamente in un giorno perché poi spiegheremo che dopo una settimana ne perdi di più quindi però adesso ne entriamo in vedo. Già dopo un giorno ne perdi il 70% Quindi vuol dire che tu per ricordarti il giorno dopo 100 quiz oggi per ricordarti domani 100 quiz oggi ne devi studiare almeno almeno 400 senza le tecniche dei ripassi programmati. Quindi capite che visto che in giro ci sono contenuti di altri non so come chiamavano content creator bravo sono dei content creator cioè niente di più niente di meno quindi se ci sono magari content creator che dicono che bisogna ripassare dopo sette giorni capite che è una cazzata perché se dopo un giorno ne prendi 70 o meglio c'è dopo sette giorni io l'ho fatta un po' più Polity Esatto Polity Correct Quindi detto questo quindi quindi com'è esattamente questa tecnica quindi come si dovrebbe realmente ripassare per sfruttare il nostro cervello come diceva il carissimo amico che insomma è morto poco tempo fa insomma Allora sicuramente se innanzitutto anzi facciamo una piccola promessa ovviamente questo metodo può essere applicato a prescindere dal tuo metodo di studio quindi se a casa tu leggi e ripeti puoi applicare questo metodo assolutamente sì ovvio più è di qualità la memorizzazione a monte più è come dire efficace il ripasso programmato anche perché accorgersi se ho preso un'informazione o meno senza tecniche di memoria per alcuni contenuti tipo i dettagli la vedo anche abbastanza ardua esatto esatto in più aggiungo un altro pezzo perché le informazioni diciamo vanno sempre contestualizzate quindi è vero che dopo 20 minuti io già le persone perdono il 40% delle informazioni ma Ebbinghaus parlava cioè appunto 150 anni fa di uno studio tradizionale diciamo al momento in cui tu applichi una tecnica di memoria e quindi per esempio il link method e quindi che sfrutta in modo naturale le caratteristiche della memoria e quindi la qualità del ricordo è già molto più alta è normale che non ne perdi il 40% quindi ripeto contestualizziamo tutto oddio adesso non ho conti alla mano ovviamente stiamo parlando di numeri stiamo facendo esatto questo è un po' io posso fare un esempio però pratico secondo me ragazzi è aumentato in margine dell'oblio cioè secondo me è molto legato anche all'attenzione e se noi ci pensiamo l'attenzione ormai è diminuita di quanti secondi cioè ormai noi siamo bombardati di informazioni e secondo me quello comunque incide tanto perché il tuo cervello adesso magari prima aveva meno informazioni era meno a contatto con le informazioni quindi magari il 40% lo perdeva ma tutto il resto gli rimaneva ma adesso se tu già stacchi lo studio e ti apri Instagram cioè si si c'è bombardato e poi sei anche molto di base cioè mediamente meno focalizzato quindi proprio la tua capacità di concentrarti è minore si diciamo che questi ovviamente sono numeri basati su una ricerca di 150 anni fa quindi secondo me le cose sono belle anche peggiorate esatto eh bravo bravo si ripeto stiamo chiacchierando su delle percentuali che obiettivamente hanno poi bisogna vedere il riscontro con le esperienze infatti forse volevi dire sì io dicevo ad esempio nell'esperienza pratica ad esempio di un allievo tipo con le tecniche di memoria e senza tecniche di memoria io vedo proprio il progresso perché a me piacciono i dati quindi toccare con mani i dati quello che fanno prima e quindi arrivano nella prima aula studio mandano delle percentuali un ragazzo mi ha colpito particolarmente ma è sempre così l'ultimo ragazzo a cui io faccio riferimento ha fatto un 40% siamo parli di geografia come materia quindi è arrivato con un 40% di risposte corrette sul 100% ovviamente e dopo avere fatto con le tecniche di memoria la lezione subito dopo stiamo parlando di tre giorni di distanza 96% e non si ricordava un pub un pub l'altro aveva sbagliato per distrazione e quindi ho detto caspita nel senso bomba siamo andati siamo andati nella direzione giusta infatti non a caso uno dei metodi per vedere se i nostri allievi riescono con le tecniche di memoria e quindi sono sul pezzo aula studio dopo aula studio soprattutto nella fase iniziale perché nel momento in cui apprendi le tecniche di memoria è controllare le percentuali non a caso il limite è sopra il 90% perché ti accorgi proprio nei ripassi a due giorni tre giorni se ti ricordi il 90% o su quindi più del 90% vuol dire che stai applicando le tecniche nella maniera corretta e quindi andiamo avanti e proseguiamo nel percorso se invece fai una percentuale più bassa allora dobbiamo migliorare nelle tecniche di memoria perché è proprio lo strumento essenziale per memorizzare le informazioni altrimenti c'è qualcosa che non torna e quella poi è la differenza col metodo anche tradizionale anche perché è scienza raga cioè non sono è metodo scientifico applicato alla banca dati controllato verificato e migliorato tante volte la gente dice ma io sono scettico perché ho comprato il corso di ciccio pasticcio e non ho capito un cazzo ci sta assolutamente ci sta perché poi c'è tutto il lavoro dietro i ripassi programmati eccetera 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 quindi la personalizzazione delle tecniche perché se uno vede un videocorso se no basterebbe guardare un video banalmente su youtube mi guardo il video e memorizzo la banca dati gratuito senza spendere soldi ecco perché dico poi è tutta una questione di veramente di appoggiarsi alle persone giuste noi abbiamo reso veramente il tutto scientifico cioè non puoi sbagliare è impossibile che un nostro mi permetto di dire che è impossibile che un nostro allievo che fa tutto quello che noi diciamo perché sono quelli che spariscono e dovevano stagli dietare rincorre esatto assolutamente che è diventato il compito principale mio ma è impossibile che obiettivamente non riescano a memorizzare non riescano a ottenere questi risultati è impossibile quindi questo è quanto detto questo quindi dicevamo vai quindi sette giorni la vogliamo allora sette giorni ci posteremo prima di sette giorni ci sono due ripassi che sono fondamentali il primo semplifichiamo col numero uno adesso capirete perché noi diciamo sempre un'ora un giorno una settimana un mese ed eventualmente sei mesi adesso ve la contestualizzo prima di una settimana ci sono i due ripassi più importanti che sono quello a un'ora e a un giorno perché sono i più importanti vedi sopra cioè se abbiamo detto che nelle prime 24 ore perdi la maggior parte delle informazioni quindi se non le ripassi è veramente poi cioè una settimana non ti serve perché guardi la bancata e ti dici non mi ricordo niente quindi fondamentalmente i ripassi funzionano così a un'ora come dicevo un giorno una settimana e un mese spieghiamo che cosa vuol dire ripasso perché ripasso o ripetizione non vuol dire ripeto d'alta voce a pappagallo ma in modo proprio programmato a livello di tempo è attivo quindi col cervello acceso cosa faccio in questo caso poi magari entri tu nel tecnico di cosa fai con le linee nella banca dati leggo la domanda e verifico di ricordare la risposta quindi è proprio a me piace dire verifica programmata perché ripasso ripetizione mi richiama molto qualcosa di passivo invece è proprio una verifica si fa il richiamo al metodo errato quindi è proprio un controllo verifica e controllo quindi verifichiamo che io abbia memorizzato in maniera perfetta e precisa quella domanda verifichiamo controlliamo se me la ricordo dopo un'ora un giorno vuol dire che ottima ok tanto è che se non erro poi Marco dimmi la tua esatto entro poi anche nel prato se non erro poi ci sono alcuni mi ricordo che c'erano ancora gli allievi che addirittura dimenticano il PAV dopo una settimana assolutamente assolutamente perché infatti qua si entra anche nel scetticismo di cui parlavi perché spesso l'allievo arriva da me o dai nostri docenti quindi o nella col di orientamento da me o nella prima lezione sulle tecniche di memorizzazione con i nostri docenti e dichiara ma cosa mi serve a me sapere la storiellina perché così ancora la chiamano la storiellina poi dopo al concorso perché se io memorizzo 10.000 storielline poi come faccio al giorno del concorso a ricordarmi 10.000 storielline gli manca proprio questo il passaggio che gli manca sono i ripassi programmati perché l'obiettivo non è imparare la storiellina non è memorizzare la storiellina quello è un mezzo quello è lo strumento è la tecnica di memoria per memorizzare l'informazione per portare a lungo termine l'informazione poi questa cosa spiegala proprio in maniera scientifica quindi passaggio proprio di dalla memoria a breve termine a memoria a lungo termine e nel pratico io vi spiego proprio come avviene quindi 100 domande le memorizzo faccio i ripassi programmati sulle 100 domande sui pub che non so e porto le stesse percentuali e le verifico dopo un giorno dopo una settimana dopo un'ora dopo un giorno dopo una settimana e dopo un mese e le percentuali rimangono alte è quello che fa la differenza poi in tutto ciò quello che fa la differenza cos'è? è il livello di tecniche di memoria perché poi lì l'allievo tipo che ha capito bene le tecniche di memoria le sa fare benissimo noi ce ne accorgiamo perché lo misuriamo proprio perché con anche i ripassi programmati fin da subito ti accorgi proprio se il metodo che stai utilizzando è corretto o meno perché dopo un'ora 97% bene mi torna bomba però potresti aver avuto delle difficoltà io non me ne accorgo dopo un giorno 97% 98% bene bomba dopo una settimana non sfuggi più perché io sono sicuro che tutte le persone che adesso studiano senza tecniche di memoria quando hanno finito un esame dopo una settimana l'hanno già buttato tutto nel cestino saluti lancia un forget e invece dopo una settimana se mi fai ancora 97% 98% alcuni addirittura al 100% allora dico ok bomba continuiamo così applichiamo e andiamo a memorizzare la banca dati ancora in meno tempo di quello che è previsto invece altrimenti dopo una settimana aggiustiamo ci aggiustiamo il tiro e riusciamo comunque a raggiungere l'obiettivo quindi questo è secondo me la potenza anche dei ripassi programmati per uno che inizia ad oggi perché è essenziale proprio come metodo sia per portare l'informazione a lungo termine sia anche per monitorare il proprio livello di tecniche di memoria il mio carissimo vecchio istruttore che lo saluto lui paragonava sempre le tecniche di memoria insomma la memoria è un palazzo quindi immaginate che memorizzare tutta la banca dati è come costruire un palazzo di 10.000 piani ok ogni domanda è un piano e immaginate che le tecniche di memoria non sostituiscono il palazzo o l'arredamento all'interno del palazzo ma le tecniche di memoria sono l'impalcatura che serve per costruire il palazzo questo cosa significa che quando il palazzo è pronto l'impalcatura si toglie e rimane soltanto il palazzo quindi dopo un mese molto probabilmente i ragazzi non si ricorderanno più l'impalcatura ma si ricorderanno soltanto domanda e risposta fine veloce un secondo due secondi tre secondi e questo ragazzi chi ha fatto i concorsi lo sa è fondamentale perché se io vado al concorso anche qua cioè matematica andiamo sulla matematica e la scienza e il tempo quante domande sono un concorso 10.000 quiz prendiamo un concorso no proprio ti faccio al giorno della prova sono 100 domande ah 100 domande sì il giorno in media dipende dai concorsi quanti secondi ho per rispondere di solito un'ora per 100 quesiti quindi più o meno Loredana vai in matematica se è forte neanche un minuto è 40 secondi 40 secondi capite l'importanza ecco perché la storiella non serve a niente è vero la storiella è una storiella che non serve a niente all'inizio serve soltanto perché è un'impalcatura quindi costruisco il palazzo tolgo l'impalcatura rimane domanda e risposta domanda e risposta quanto ci mette a richiamarlo meno di 40 secondi ecco un'altra cosa molto meno di 40 secondi esatto è una cosa importantissima quando al giorno del concorso perché io vado al giorno del concorso e deve essere domanda e risposta veloce rapido ho 40 secondi di domanda ragazzi per fare il 90% di risposta giusta ho 40 secondi di domanda fai un minuto di domanda non posso stare troppo a ragionarci considerando che c'è pure matematica che quattro conti li devi fare quindi poi magari faremo un video su come proprio organizzarsi anche il giorno della prova a fare il test perché si parte magari dalle domande che già sai poi vai a fare quelle di matematica che ci vuole sempre dello studio della banca dati ma lo studio della banca dati deve essere funzionale al giorno del test perché se no non avete fatto niente è quello l'obiettivo assolutamente esatto se no non avete fatto nulla infatti quando i nostri figli fanno anche le simulazioni vi date il tempo cioè non è una simulazione che la faccio in quattro ore ma nel tempo del concorso e cosa essenziale poi regaliamo anche questa chicca qua fare anche le simulazioni cartacee perché fare solo le simulazioni sul telefono non ci abitua al giorno del concorso il giorno del concorso è diverso anche il metodo i pallini e quello come farli sbagliare sbaglio la riga sono cose che uno si deve esercitare perché il giorno della prova non può sbagliare se mi perde 5-6 punti perché ha sbagliato e poi non può più cancellare con la penna la penna poi gli arriva dal genitore magari in testa ecco ma è anche per una questione proprio che il nostro cervello si come dicevo all'inizio del video sfrutta tantissimo i sensi quindi un conto cioè se io faccio così o rispondo al telefono sfrutto alcuni sensi alcune parti magari del cervello vengono stimolate se prendo una penna con un foglio sono altre parti che vengono stimolate e quindi il cervello più si esercita anche sul cartaceo da un certo punto in poi quindi non è che no non è che il primo giorno andiamo lì perché sennò perdiamo troppo tempo esatto ma il cervello si come dire riconosce come già vissuto quell'esperienza e quindi è molto più facilitato perché appunto non ha diciamo il trauma tra virgolette il giorno del concorso che la prima volta fa una cosa ma è una cosa che già conosce e quindi la vive come naturale come normale questa è un po' la spiegazione dietro le quinte tra l'altro appunto di questa cosa è una tua super lavagnetta uno dai fatti da fare dai scrivi lavora produci stavo dicendo ha già fatto devi scrivere che qua sotto i ragazzi troveranno un programma di master plan con diciamo così una sorta di simulazione della preparazione della banca dati quindi con gli strumenti che avete qua sotto troverete una sorta di master plan dove vi diremo anche quando ripassare come ripassare e quando quindi avete proprio qua sotto tutto il piano dei ripassi programmati come dicevamo prima lo potete usare anche col vostro metodo di studio come vi trovate bene ovvio che un po' come diceva Marco e anche Loredana siete un po' più lenti con la ripetizione assolutamente sì però lo potete usare però sicuramente è un procedimento da fare sempre per qualsiasi cosa un ausilio quindi così vi regaliamo questa guida bello bravo bell'idea io ho soltanto bell'idea ok stiamo dicendo per parlare appunto per rispondere anche a quello che mi dicevi tu spiegare che cosa avviene diciamo nel nostro cervello ve la dico molto semplice fondamentalmente per far passare diciamo un'informazione dal breve al lungo termine ripeto chiedo scusa ai tecnici è giusto perché tanto è inutile fare i paroloni così almeno capiscono tutti cioè immaginate che dovete creare tra virgolette dei solchi per facilitare il passaggio dell'informazione ecco perché si ci si diciamo devi ripassare più di una volta è un po' come il terreno cioè se stai non voglio addentrarmi anzi in questa metafora che conosco poco arare i terreni ecco non conosco bene però esatto perché ho iniziato a dirlo e poi ho detto forse è una metafora di merda terreno lo sei dicendo esatto diciamo che se devi creare un passaggio una strada una strada devi asfaltare devi asfaltare dai dai forza se la possiamo dai dai quindi fondamentalmente da A a B devi creare questa strada quindi è come dire devi creare dei solchi va bene aiutatemi devi scavare devi scavare devi fare le tracce questa metafora è destosteronica sono diventato un ingegnere insomma devi fare delle tracce per terra e quindi ci devi passare più e più volte esatto giusto quindi quello che penso che Loredana volesse dire è che se con le tecniche di memoria è come se noi ci passavamo meno volte e la strada è già pronta in modo più efficace se no una metafora più magari semplice pitturare un muro può essere una spiegamela no vabbè non ci addentriamo nemmeno in queste metafore ah perché fai più pittate esatto magari era più semplice per te anziché fare esatto io grande esperta di pittura di muri esatto l'esempio di Marco è quello più bello quindi se dobbiamo pitturare casa e dobbiamo buttare di solito devi almeno fare almeno due o tre mani ok di vernice bianca per fare un bel lavoro quindi qua in bianchino scrivetemi qua sotto io ho imbiancato poche volte casa poi ho sempre pagato perché non è un lavoro che mi piace ma tecnicamente ci vuole almeno due o tre mani diciamo che con le tecniche di memoria è come se ne usi ne metti soltanto una e già il muro è bello bianco questo è il senso della cosa diciamo che magari fai la prima ok provo ad utilizzare questa metafora la prima la fai ovviamente in modo tra virgolette professionale con la tecnica di memoria e poi magari quando devi fare la seconda ripassata è tutto molto più semplice perché hai usato la tecnica di memoria però comunque va fatta per diciamo così far sì che rifinire il tutto esatto e rifinire il tutto ecco perché si usano i ripassi programmati detto questo allora abbiamo finito abbiamo concluso cliccate qua sotto per scaricarvi appunto questo master plan completo dove insomma vi proprio vi condividiamo come diciamo così preparare un concorso anche in tre mesi in sei facciamo tre mesi Marco tu che dici tre mesi tre mesi è perfetto anche perché per quelle che sono i concorsi diciamo medi carabinieri polizia è quello più attuabile tre mesi è perfetto quindi facciamo un master plan di tre mesi dove dentro vi mettiamo anche diciamo così vi calendarizziamo anche i giorni di ripasso quindi quando dobbiamo andare a ripassare e tra l'altro aggiungo anche una cosa che se non erro quindi qua chiedate Marco se scarica la nostra applicazione in teoria in automatico la nostra applicazione dovrebbe mandare delle notifiche su quando ripassare quello assolutamente sì quindi noi abbiamo pensato anche a questo sui ripassi delle domande assolutamente sì ricordati di studiare esatto se scaricate la nostra applicazione che magari ve la mettiamo anche quella qua sotto proprio quando vi mettete a fare le simulazioni proprio c'è sotto l'applicazione vi arriva la notifica e vi dice devi ripassare e voi ignorate infatti come faccio io che ogni tanto ignoro chiudi anche perché anzi guarda scusami faccio una piccola piccolissima giuro parentesi perché molti magari pensano che palle io dopo un'ora mi devo rimettere a ripassare e poi capirete cliccando qua sotto cosa e come fare esattamente che palle dopo un'ora dopo un giorno perdo un sacco di tempo in realtà il tempo lo perdi veramente se non fai questi ripassi perché se perdi le informazioni per strada tutto il tempo che è dedicato allo studio viene perso quindi nel caso di nella curva dell'oblio se tu non fai i ripassi programmati più del 70% arrivo ad un certo punto dopo una settimana delle informazioni lo hai perso quindi che cosa ti fa perdere più tempo il fatto di fare dei ripassi programmati che ti prendono veramente 5 minuti oppure non farli e quindi dover rimemorizzare tutte le domande ovviamente la seconda a voi la scelta detto questo monta la sua a voi la scelta detto questo non ho capito la citazione io qua c'ho una ragazza più giovane che ride perché l'ha capita ok quindi sei tu che sei una boomer sono boomer detto questo allora vi ringraziamo un saluto e ci vediamo e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ciao belli ciao ciao Grazie a tutti.